Ciao, in occasione della Maker Faire Roma 2023 ti presento un progetto di irrigazione low-tech. Uso OIA. Giare di terracotta sepolte nel terreno e riempite d'acqua. Terracotta porosa, acqua si diffonde nel terreno e lo mantiene umido. Si possono fare piantagioni intorno agli OIA. Per irrigazione automatizzata li ho collegati a un serbatoio di acqua piovana e progettato una valvola galleggiante che mantiene i suoi OIA costanti. È possibile creare un rubinetto con una stampante 3D e parti facili da trovare. È un sistema di irrigazione low-tech, senza pompa o elettricità. Un'altra versione su questo stand è più semplice. Non c'è un galleggiante. Ho creato una capsula porosa con un panno di terracotta tappato alle estremità. Due piccole tubature portano acqua. Le capsule nel terreno rimangono piene e mantengono l'umidità per le piante. Domande in francese o inglese. Grazie.